Un ordigno della seconda guerra mondiale è stato ritrovato a Mugnano in via Quasimodo. Stavate lavorando con le scavature e avete trovato questo oggetto strano? Stavamo facendo lo scavo, ho trovato questa cosa un po' sospetta, mi sono accorto che poteva essere un oggetto del genere e ho avvisato la caserma dei carabinieri. L'avete capito subito che era una bomba, l'avete pensato subito? Era un ordigno? Sì, diciamo, non essendo esperto c'è stata un po' di paura, non si si è allontanati. Il sindaco ha subito rassicurato i cittadini. Noi stiamo lavorando qui in questa zona, nell'ambito dei lavori che stiamo riqualificando via Mercato, via Quasimodo, via Machiavelli e alla stessa di via San Lorenzo, durante gli scavi è stato ritrovato un ordigno della seconda guerra mondiale, quindi ci siamo prontamente allertati, abbiamo mobilitato la polizia municipale, i carabinieri, adesso arriveranno gli artificieri dell'esercito, si cercherà di capire innanzitutto se è ancora attivo o meno questo ordigno. Evacuate immediatamente l'intera zona, almeno fino a domani, quando la bomba, probabilmente lanciata da un aereo, sarà rimossa.